come si sceglie un percorso di crescita personale funzionale alle nostre esigenze nella miriade di corsi che ci contornano la vita spesso non abbiamo una pillola che ci permetta di scegliere velocemente il percorso più adatto a noi e quindi ci troviamo in un mare magnum di offerte che ci danno un po di confusione che ci non ci permettono di essere funzionali non ci permettono di essere noi i padroni della scelta ciao Michele ciao Manu come stai tutto bene te io tutto bene grazie è vero Michi questa cosa noi la vediamo spesso nei nostri clienti si trovano di fronte molte offerte molte possibilità molte opportunità ma in realtà poi scegliere un percorso di crescita personale è importante proprio perché è diverso e personalizzato quindi noi vogliamo portare le persone a evitare di reagire a una situazione scomoda o arrivare a un punto in cui stop basta faccio un percorso perché sto scappando da una situazione che non mi piace la vera chiave di svolta sarebbe anticipare e conoscere talmente bene le nostre esigenze nostri bisogni che diventiamo magicamente proattivi cioè anticipiamo le nostre esigenze e quindi possiamo fare delle scelte più consapevoli più efficaci ma soprattutto possiamo selezionare il percorso che più ci si addice e più risolve le nostre necessità noi abbiamo individuato i fantastici cinque cioè cinque elementi che in qualche modo ti potranno aiutare dopo questo breve video di riflessione proprio a scegliere in maniera più consapevole le tue opportunità formative e cominciamo con la prima Michele a te la parola la prima è la differenza tra scienza e credenza perché molto spesso quello che ci troviamo davanti con offerta formativa è avere dei corsi che sono basati o su aspetti scientifici quindi che hanno dei riferimenti teorici comprovati e sviluppati nel tempo o molto spesso ci troviamo davanti a dei percorsi basati più su delle credenze qual è il rischio il rischio è che eh rischiamo di eh cadere un po' nel vuoto perché quando abbiamo eh delle basi solide come quelle scientifiche anche se abbiamo dei momenti di sbandamento perché possono essere più complessi inizialmente da comprendere in realtà queste basi solide costruiscono un ponte sul quale noi camminiamo molto spesso quello che vediamo è che i percorsi sono basati su dei sentito dire su delle parole d'ordine che sono più attrattive che ci colpiscono no ma che poi sotto sotto sono più incorpore per questo e le nostre master class sono fondate su riferimenti teorici su personaggi che hanno sviluppato nel tempo teorie tecniche e le hanno applicate le hanno provate e come vedremo questo ci permette di avere dei percorsi molto strutturati e solidi appunto e non campati in aria e non campati nella cosa eh il secondo elemento che secondo noi è un driver importante nella scelta è selezionare quei percorsi che tirano fuori e allenano in pratica eh i concetti verso la formazione classica frontale dove eh abbiamo una persona che spiega unidirezionalmente le cose e non ci permette di allenarci non ci permette di fare pratica non ci permette di esercitarci ecco la nostra scuola è un po' fuori dagli schemi eh nel nostro master class innanzitutto non starete mai seduti inteso non starete mai fermi a godervi il panorama ma sarete voi parte attiva del della formazione che eroghiamo proprio perché attraverso l'attivazione e la partecipazione noi tiriamo fuori delle cose che poi insieme alle conoscenze che mettiamo in aula ci permettono di cambiare. Terzo è la differenza tra comprensione e motivazione anche qui molto spesso se noi guardiamo il panorama delle proposte eh veniamo in contatto con i classici corti corsi motivazionali i corsi motivazionali che sono sicuramente belli perché quando usciamo da un corso motivazionale abbiamo l'hype a mille quindi ci sentiamo pronti a davvero spaccare il mondo ad andare verso la nostra strada. Il grosso problema qual è? Che la maggior parte di queste proposte sono basate su un hype iniziale ma poche conoscenze reali quindi poca comprensione di quello che che ci ha portato a quell'hype e quindi ci troviamo un po' nel poi non sapere davvero che sarà da prendere perché siamo molto motivati e dopo pochi passi torniamo a mangiare la nostra cioccolata come vediamo nell'immagine perché perché non ci hanno davvero spiegato non abbiamo davvero capito l'importanza del mangiare in un modo sano l'importanza sul lungo periodo di avere una determinato tipo di dieta questo è un po' la differenza quindi le nostre masterclass eh hanno come punto focale la far capire quindi far comprendere quello di cui stiamo parlando proprio per dare degli strumenti c'era un vecchio adagio che diceva eh dai a un uomo un pesce mangerà per un giorno dagli una carne da pesca e mangerà per tutta la vita. La pluridisciplinarietà verso l'unidirezionalità eh noi ci basiamo su diversi approcci sempre su base scientifica su autori autorevoli e credibili ma ne prendiamo veramente tante di ispirazioni e metodologie proprio perché non crediamo che una cosa sola conoscere una cosa sola comunque avere un'unica via sia quella forma che ti permette poi di aprire la mente e cambiare. Ecco noi crediamo che se ti trovi di fronte a molte informazioni anche diverse fra loro anche in contrasto questo apre la mente attiva quello che noi chiamiamo mindset dinamico ossia la capacità di mettere tutto in discussione e poi fare una scelta perché se io ho tante strade e le conosco posso comunque fare una scelta che in alcuni momenti è verso un luogo e in altri eh momenti verso un altro proprio perché non esiste un approccio giusto ma esistono delle scelte giuste quindi questo è un po' nostro eh modo. E chiudiamo con un po' un riassunto diciamo molto spesso eh quando ci approcciamo a percorsi di formazione sono dei cerotti dei cerotti che curano le scoriazioni che abbiamo ricevuto dalla nostra vita quindi la loro funzione è quella di farci sentire leggermente meglio ma la cicatrice comunque rimane. Noi invece abbiamo costruito delle masterclass che ci possono portare a perseguire a costruire delle strade. In questa immagine come vediamo abbiamo due strade una strada che è quella più veloce più semplice perché se ho fame sicuramente il junk food è un'ottima risposta per calmare la fame ma è anche vero che sul lungo periodo questo junk food ci porterà ad uno stile di vita non sano e quindi potremo avere molti più problemi e sicuramente all'inizio seguire una dieta più equilibrata più sana può essere meno gustoso un po' più faticoso ma sul lungo periodo migliorerà in modo molto significativo la nostra qualità della vita. Ecco su nella formazione abbiamo proprio questo diktat quindi scegliere una via che ci porti a una lunga generazione di benessere. E la via è iscriversi alle nostre masterclass così Grazie a tutti.